Ok, bentrovati a tutti. Come accennavamo prima, l'intervento parlerà di Ionic Framework e in particolare come creare una semplice applicazione per smartphone oppure tablet su piattaforma Android e iOS. Io sono Andrea, forse mi avete visto in qualche altro talk, mi occupo di sviluppo software, tra cui anche applicazioni mobili, informatica forense e altre cose. Questo è un talk relativamente semplice perché vuole introdurre Ionic Framework quindi diciamo un primo utilizzo per fare un'applicazione abbastanza base. Ionic Framework in realtà si contrappone allo sviluppo nativo di applicazioni che è la metodologia tra virgolette classica con cui si è iniziato a fare applicazioni mobili. Lo sviluppo nativo cosa prevede? Che noi andiamo a scrivere il codice di una app usando il linguaggio e gli ambienti di sviluppo che vengono forniti dai produttori del sistema operativo, quindi Google e Apple. e quindi per fare un'applicazione sia su Android che su iOS dovremo scrivere il codice in due linguaggi diversi usando degli ambienti di sviluppo diversi e anche gli strumenti per disegnare l'interfaccia grafica che sono differenti. Questo innanzitutto ci dà il vantaggio che possiamo fare qualsiasi tipo di app. possiamo fare applicazioni molto semplici, possiamo fare anche applicazioni molto complicate che usano la grafica tridimensionale, che usano tutte le funzionalità del sistema operativo anche a basso livello. Però in realtà se noi andiamo a vedere poi quello che è la realtà delle applicazioni come anche quello che ci chiedono i clienti quando sviluppiamo per loro le applicazioni è che la maggior parte delle app che trovate in giro non sono app particolarmente complesse sono applicazioni che si collegano a un servizio web, ti fanno fare il login, ti fanno registrare ti fanno vedere il tuo profilo utente, ti fanno vedere delle informazioni e poco altro. I videogiochi magari con la grafica 3D sono un po' diversi, però la maggior parte delle applicazioni normali diciamo mostra dei dati e ti fa creare un profilo e più o meno sono sempre quelle le cose. Quindi non sfruttano a basso livello tutte le funzionalità del sistema mobile, perciò è un po' uno spreco, tra virgolette, svilupparle nativamente. Allora qui si contrappone lo sviluppo di cosiddetto ibrido. Nel nostro caso vediamo Ionic Framework che è in realtà composto da diverse parti. è basato su Angular e Cordova. Angular è un framework di sviluppo web basato su JavaScript oppure TypeScript e che diciamo viene utilizzato anche per sviluppare i cosiddetti rich web applications e cose del genere, quindi si usa fortemente JavaScript. e Cordova invece è una libreria, una serie di strumenti sviluppato principalmente da Adobe per creare le applicazioni mobile ibride, quindi in pratica fondamentalmente l'app diventa una specie di web view, un browser senza barra, senza niente, in cui si vede solo una pagina HTML e JavaScript all'interno che ha la stessa grafica di un'app nativa, le stesse funzioni di un'app nativa però in realtà è fatta con tecnologie web. In aggiunta a questo Cordova e poi anche Ionic forniscono dei plugin che ti permettono di astrarre l'interazione con la piattaforma mobile perché magari ti danno un plugin per mostrare le notifiche che poi gli hai sviluppato nativamente sia per iOS che per Android, tu richiami la funzione in JavaScript e lui a seconda della piattaforma che sta utilizzando ti permette di mostrare una notifica, però tu lo scrivi una volta sola e lui dopo lo esegue come deve eseguirlo. Quindi cosa ci permette di fare? Ci permette di fare uno sviluppo più rapido perché noi scriviamo il codice una volta sola e possiamo avere un output su due piattaforme diverse rispondiamo tempo e a seconda del tipo di app che vogliamo fare rispondiamo tempo anche perché a volte è più semplice assecondare le richieste del grafico quando devi fare una cosa in CSS invece che farla nativa con gli strumenti che ti fornisce Android Studio o Xcode per disegnare gli elementi sullo schermo a volte è più semplice farlo in CSS quindi se ti chiede vorrei il bottone che ha quel colore, quella sfumatura, quel board eccetera con CSS fai prima rispetto a farlo nativo. E poi Ionic in particolare rispetto ad esempio a usare Cordova o PhoneGap anche che è il nome di Adobe per sviluppare le app ti dà anche degli strumenti in più, c'è una interfaccia da riga di comando più pratica e alcuni automatismi per generare ad esempio le icone per ogni piattaforma gli splash screen eccetera e automatizzare il processo di build che è un po' più pratico rispetto a Cordova puro. Quindi per iniziare la nostra app abbiamo bisogno di installare alcuni strumenti di sviluppo innanzitutto tramite il package manager di Node installiamo Ionic e Cordova sul nostro sistema dopodiché possiamo usare un idea piacere naturalmente siccome poi andiamo a lavorare in TypeScript potrebbe essere consigliabile usare Visual Studio Code perché ha un ottimo supporto per il linguaggio TypeScript e quindi è molto comodo ma può essere anche Atom se uno vuole farsi male può essere anche Notepad.exe comunque qualsiasi software che ti permette di scrivere dei file di testo dopodiché dobbiamo tenere a mente però che quando andiamo poi a generare l'app effettivamente ci servono gli strumenti di sviluppo nativi anche se non li usiamo direttamente ma dobbiamo averli installati per cui per Android posso usare Linux, Windows, Mac OS e mi basta avere Android Studio mentre se voglio creare un'app che poi sia effettivamente installabile sull'iPhone o su iPad ho bisogno di un computer con installato Mac OS e Xcode quindi su Android si può esportare tutte le piattaforme mentre l'esportazione finale per iOS ha bisogno di un computer Apple come esempio per questa presentazione ho pensato appunto di cercare di fare una cosa abbastanza semplice e quindi l'idea era facciamo una app per smartphone che ti faccia vedere una lista dei titoli di tutti i talk che ci sono all'ESC quest'anno prendendoli dal wiki insomma c'è una lista di talk e poi con carta e penna ho disegnato questa cosa e poi l'ho rifatta in vettoriale l'idea era fare due schermate la prima è una sorta di home page in cui ci sono delle card con una foto metteremo delle foto a caso perché non ci sono le foto dei talk e si vede il codice del talk in piccolo e il titolo il codice non so se si vede è qua titolo mentre la schermata di dettaglio avrà il codice un po' più grande il titolo qui non si vede bene comunque il colore è verde il nome del relatore il giorno e l'orario e poi sempre la fotografia allora adesso praticamente vi farò vedere come si può fare questo lavoro partendo dallo scheletro del progetto altro vantaggio di Ionic è che ha già gli scheletri diciamo già fatti e quindi possiamo dare semplicemente il comando Ionic start mettiamo il nome della nostra applicazione che io ho chiamato ask app e il nome invece del template di Ionic nel nostro caso si chiama blank perché appunto ha una schermata con una sorta di hello world senza niente poi c'è anche il template già con le tab altre cose però come partenza di base partiamo dal template bianco poi partendo dai colori che si vedono sia nel logo dell'esc che sul sito ho impostato due colori uno primario che è il verde un po' più scuro e il secondario che è il verde chiaro utilizzando anche questo uno strumento di Ionic molto comodo il generatore di colori di Ionic che quindi l'imposto due o tre colori che mi servono lui mi fa tutte le varianti chiaro scuro eccetera eccetera e mi dà un codice in scss quindi in sas e io lo vado a rimpiazzare nel file che ha già i colori di default che sarebbero il blu e tutte le tonalità di blu io prendo il file che era già esistente e lo rimpiazzo col codice che mi ha dato il generatore di colori e magicamente l'applicazione cambia il tema a questo punto l'unica roba piccola da sistemare sul template di default è la status bar su Android perché non funziona correttamente nel senso che se io lancio il template di default di Ionic la status bar in alto avrà lo sfondo nero e le scritte nere quindi non è esattamente molto leggibile però in questo caso mentre su IOS la status bar ha lo sfondo trasparente quindi prende il colore della barra dell'app in questo caso faccio un controllo se la piattaforma è Android imposto il colore che gli ho detto io col verdino chiaro vedete che in entrambi i casi ho messo lo stile di default che vuol dire che ha le scritte scure perché so che lo sfondo della barra è molto chiaro se invece volevo usare un colore più sgargiante mettere le scritte bianche avrei dovuto mettere style light content mi sembra quindi è solo da tenere a mente questa cosa la maggior parte delle app su Android hanno un colore sgargiante poi le scritte bianche sulla status bar comunque ok tutto qua insomma io ho creato il progetto ho cambiato i colori non ho fatto niente altro se io adesso voressi metterci il titolo praticamente vado a modificare la prima pagina che è creata dal template e metto intanto un colore più carino sulla toolbar e poi metto il titolo che voglio io cioè ESC 2019 e semplicemente con Ionic lancio Ionic Cordova Run il nome della piattaforma quindi se ho un computer Apple posso mettere anche iOS e lanciare il simulatore di iOS altrimenti devo mettere per forza Android e a questo punto quello che ho generato è un'applicazione che purtroppo forse qui non si vede tanto bene perché il contrasto è molto alto però la barra in alto è un verdino chiaro con le scritte nere e poi c'è la pagina bianca con la scarita di default perché non l'ho neanche modificata per il momento questo è il primo lancio praticamente cambiando solo i colori e il titolo a questo punto vado a creare una home page senza dati ancora ma soltanto con l'aspetto grafico che poi avrà alla fine quindi preparo un mockup senza metterci delle informazioni reali e modifico il file della home cambiando il contenuto usando i componenti che Ionic mi fornisce perché questo è anche un altro vantaggio di Ionic che mi fornisce i componenti angular già fatti quindi c'è il componente per la card dove metto un'immagine metto un header con un sottotitolo e un titolo ne creo due giusto perché voglio vedere l'effetto che fa con due card e a questo punto semplicemente modificando il codice così lo rilancio un'altra volta rilanciandolo cominciamo a vedere una struttura un po' più seria nel senso che ci sono due card con due fotografie appunto casuali diciamo e lo spazio dove inserirò il titolo del talk questo assomiglia più o meno a quello che avevo disegnato prima come bozza di interfaccia passiamo quindi sempre a fare una bozza dell'interfaccia della pagina del dettaglio bisogna innanzitutto che io generi un'altra pagina come si fa? con il comando Ionic G page detail detail è il nome che ho scelto io ed è a piacere vostro poi sapendo che l'indirizzo di default dove andrà la pagina è slash detail perché è quello sulle card della home page vado a inserire un link in modo che io quando tocco col dito sulla card mi passa all'altra pagina e come lo fa il passaggio? usando una transizione che gestisce Ionic a seconda della piattaforma userà l'effetto grafico che l'utente si aspetta su quella piattaforma quindi su iOS vedrà la pagina che esce dalla parte destra verso sinistra su Android invece dal basso verso l'alto più veloce e a questo punto creo il mockup invece della pagina di dettaglio in questo caso cosa c'è? praticamente un'immagine in alto una sezione con un po' di padding e delle scritte la scrittina un po' più piccola codice la scritta col titolo grande del talk e poi il relatore e la data e l'orario vado di nuovo a rilanciare l'applicazione anche in questo caso non ho i dati veri per il momento sto solo facendo una bozza grafica e ottengo questa schermata di dettaglio poi ci sarebbe da tradurre il pulsante indietro su iOS però tralasciamo diciamo che comunque c'è la foto e ci sono le scritte sotto che forse non si vedono benissimo però fidatevi insomma che ci sono a questo punto però io cosa ho fatto ho fatto l'interfaccia grafica dell'app ma non ci sono i dati perché finora non ho messo niente dentro allora dobbiamo occuparci anche di inserire i dati per questo motivo devo preoccuparmi di pescarli dal sito di ESC sapete bene che sul sito dell'ESC c'è una pagina in cui c'è una lista di talk con gli orari e ci sono delle intestazioni col giorno dopo ci sono delle tabelle con i talk poi c'è un'altra intestazione con l'altro giorno e così via innanzitutto mi creo una classe che mi definisca il tipo di oggetto con cui voglio lavorare e per semplicità sono tutte stringhe quindi è più per organizzazione perché non abbiamo un diciamo una sorgente dati ad esempio che ci fornisca un JSON o qualcosa che è strutturato abbiamo solo una tabella da leggere e quindi facciamo tutte stringhe per il momento quindi codice titolo relatore data intesa come giorno e orario quindi io metto i campi che voglio nella mia classe e poi vado a scrivere un codice che vado a scaricarmi questi questi dati dal sito di ESC e mi crei tutti questi oggetti di tipo talk ma c'è un piccolo problema a tenere in considerazione siccome io sto lavorando su un sito che non è il mio di default quando faccio una richiesta a una pagina in HTTPS o comunque una pagina web dal browser o anche dalle webview di Cordova sappiamo che il browser controlla se il sito che sto richiamando mi autorizza a prendere il suo contenuto non tanto perché vuole rispettare la volontà del sito ma più che altro perché è per evitare che uno inserisca codice malevolo da pagina terza in realtà e verifica se è consentito in questo caso siccome non abbiamo messo le mani sul sito di ESC dove peraltro non ho nessun accesso quindi non c'è questa autorizzazione di default si bloccherebbe praticamente quindi il mio codice non riuscirebbe a leggere i dati però fortunatamente hanno fatto un plugin nativo per Ionic che fa le richieste HTTP non tramite la webview ma direttamente dall'applicazione con il codice nativo per le varie piattaforme quindi in questo caso la cosa più semplice era installare il plugin che basta dare quei tre comandi e poi seguire le istruzioni che si inseriscono due righe di codice e a quel punto tutte le chiamate funzionano quindi tenete in considerazione che poi quando farete anche i test se li fate sul browser ad esempio possono dar problemi a questo punto invece mi creo un service cosiddetto service cioè un pezzo di codice che si occupa di gestire i dati attenzione a non pensare che sia come un service tipo quelli di Linux che sono sempre in costante esecuzione perché non è esattamente la stessa cosa diciamo che il service è una struttura dati che condivido tra tutte le le varie pagine e posso richiamare quando voglio quindi il service si può iniettare nelle pagine che hanno bisogno e alla prima diciamo la prima pagina che lo richiama il service viene inizializzato se non ci fosse nessuna pagina che lo richiama il service non verrebbe neanche creato a questo punto implementiamo il download dei talk non vado a leggere tutto il codice perché quello che fa è praticamente leggere l'html è un po' noioso perché appunto non abbiamo una struttura ben definita se poi volete approfondirlo lo vedrete nelle slide comunque essenzialmente si collega alla pagina mi va a interpretare in ordine i titoli e le tabelle ogni volta che legge un titolo si aggiorna il fatto che quello è la data corrente ogni volta che legge la riga di una tabella controlla se nel codice c'è un trattino vuol dire che probabilmente quella riga non era stata riempita quindi la salta altrimenti si crea un nuovo oggetto di tipo talk e lo aggiunge alla sua struttura dati l'unica cosa importante è le due righe in alto praticamente ho due variabili due campi della classe il primo è un dizionario quindi una tabella che mi collega il codice del talk con l'elemento di tipo talk quindi io posso andare a leggere in base al codice e la seconda invece è una lista che semplicemente tiene traccia dell'ordine dei talk in modo che io poi quando mostro i talk nella home page li vedo nell'ordine corretto perché le tabelle le hashmack non hanno un ordine bene quindi diciamo che io adesso ho scaricato i dati e li ho inseriti nel service lo fa in modo asincrono diciamo l'app parte poi il service si collega fa la sua chiamata http con calma quando ha finito popola le variabili e avrà i talk al suo interno allora cosa devo fare adesso io devo usare il service per farmi dare i dati che poi mostrerò all'utente quindi modifico la pagina home.page.typescript ed espongo con due getter le due variabili che mi servono quindi faccio un getter per la lista e un getter per i talk e nel costruttore però devo avere richiamato data service altrimenti non saprebbe che cos'è a quel punto modifico il file in html con le card prima ne avevo messe due facendo copia in colla del codice proprio adesso tolgo una delle due semplicemente ne uso una sola ma vedete che c'è un comando che è asterisco ng4 quello è praticamente un ciclo dove io chiamo la lista e gli dico che ogni elemento della lista lo deve chiamare codice quindi let code of list e poi quel code lo vado a inserire con le doppie parentesi graffe all'interno del template quindi se ci sono dieci talk quel codice viene ripetuto dieci volte ogni volta cambiando il codice e anche il link l'ho modificato in modo che non chiama più dettaglio e basta ma chiama dettaglio barra il codice del talk che mi serve perché poi dall'altra parte io quel codice lo intercetto e vado a mostrare quello che voglio mostrare cambio il sottotitolo cambio il titolo questa è la modifica della pagina home dopodiché vado a modificare la pagina dettaglio invece come vi avevo detto un attimo fa devo modificare la pagina dettaglio per leggere il codice che gli ho appena passato quindi bisogna modificare la root e mettergli un segno a posto che ho chiamato id per dirgli ad angular guarda che le richieste che ti arrivano su barra detail barra e un altro pezzo di stringa devi mapparle sulla pagina dettaglio altrimenti non funzionava più e poi nella pagina dettaglio dobbiamo mettere un observer che controlla ogni volta che viene aggiornato il codice perché angular potrebbe anche decidere che quella pagina la riutilizza per più volte senza distruggerla ricrearla ogni volta quindi noi dobbiamo essere sempre reattivi a quando viene aggiornato il codice basta mettere un observer ogni volta che viene aggiornato il codice lo aggiorniamo nella nostra pagina interna e creo un metodo che restituisca il talk alla alla view invece cioè la pagina html che mostra i dati perché quell'ultimo getter lì mi serve in modo che la pagina html possa accedere a una variabile che si chiama talk a questo punto ha dato appunto la pagina html e quindi nella pagina gli mostro sempre un'immagine generata in qualche modo in base al codice e mettendo un if perché in alcuni istanti quella variabile lì potrebbe essere nulla quindi meglio nascondere tutto finché il talk non è stato caricato quando è stato caricato mostro il il codice e poi ci sono un po' di righe che non ho ricopiato ma è sempre mostra tutti i dati del talk quindi titolo relatore eccetera eccetera ora per fare una build diciamo da pubblicare poi sugli store ci sarebbe da fare qualche altro piccolo passaggio su android bisogna impostare le chiavi su ios anche il certificato però comunque sono dei passaggi abbastanza semplici che sono descritti nella wiki di ionic potete consultarla però nel frattempo possiamo comunque generare una build ulteriore in questo caso il parametro prod è un parametro di angular che gli dice cioè di impacchettare tutti i file dentro all'applicazione mentre a livello di android questa viene considerata ancora una build di debug e però ci siamo generati il nostro pacchettino che poi possiamo anche copiare sullo smartphone oppure continuare a vedere nel simulatore proviamo a vedere cosa è venuto fuori questo è il risultato finale dell'applicazione quindi a sinistra vedete la home sulle due piattaforme vedo la lista dei talk questa lista adesso non è proprio completa perché è stata fatta domenica pomeriggio mentre la pagina era ancora in corso di evoluzione quindi non c'erano proprio tutti pubblicati se io vado a toccare su una delle card si apre la pagina di dettaglio e nella pagina di dettaglio vedo effettivamente i dati con il codice il titolo il relatore data e fascia oraria quindi esattamente i dati pescati dalla pagina questo conclude l'esempio naturalmente c'è da dire che l'app bisognebbe rifinirla un po' meglio per esempio ogni volta che io lancio l'app questa riscarica i dati di nuovo se non è connessa in quell'istante lì fa un tentativo poi basta cioè non è che quindi se non sono connesso nel momento in cui apro l'app l'app mi mostra la schermata bianca e finita lì quindi bisognerebbe implementare lo storage che ovviamente è un passaggio successivo quindi vi consiglio di leggere la documentazione sullo storage anche lo storage è abbastanza semplice perché Ionic e Cordova mi danno dei moduli per avere lo storage e salvare i miei oggetti e ricaricarli quando mi serve quindi persistenza eccetera poi tenere conto se il cellulare è connesso oppure no avere un ciclo che ogni tot minuti magari ricarichi i dati comunque sono tutte cose che si possono aggiungere e chi è curioso può provare a fare poi non vi ho parlato ad esempio del branding cioè l'applicazione oltre ad avere il codice ovviamente che si vede quando è partita ha anche una parte iniziale in cui c'è l'utente che tocca l'icona l'icona bisogna disegnarla per non avere quella di default di Ionic e su Android c'è anche un formato particolare per avere le icone animate però anche qui c'è molto semplice si fanno un paio di PNG diversi e dopo si lancia un comando che è Cordova Res che mi genera le risorse per tutte le piattaforme e per tutte le dimensioni che sono richieste la stessa cosa anche per lo splash screen si parte da un'immagine unica e poi c'è un comando che in automatico genera tutte le varianti che servono perché c'è una variante dello splash screen per l'iPad una variante per l'iPhone eccetera eccetera e lo fa tutto in automatico se noi gli diamo come input un file JPEG o PNG con lo splash screen questo non è un aspetto che ho trattato oggi ma comunque se voi andate a vedere l'esempio lo potete trovare infatti vi ho messo online le slide di questa presentazione la pk precompilato che potete scaricare se vi fidate di scaricare la pk a caso dal web ovviamente e installare sul vostro smartphone per installarlo dovete attivare le sorgenti sconosciute oppure adb se usate il computer per installarlo e vi ho messo online su github un repository in cui trovate il codice dell'applicazione finora trattata con queste funzionalità se volete provare a estenderla o fare delle modifiche per esempio entro domani a mezzogiorno se qualcuno diciamo i primi tre che modificano l'app per mostrare la descrizione dei talk oltre al titolo e all'orario offro la birra io quindi potete provarci e quindi vi scaricate l'app già fatta la modificate e me la mostrate più o meno questo era tutto quanto poi penso che Sebastiano Sebastiano doveva forse dire qualcosa intanto penso che ci sia ancora qualche minuto sì cinque minuti per eventuali domande o curiosità c'è qualcuno sì prego si sente? sì ottimo c'è modo di creare degli ambienti per esempio sviluppo e produzione giusto per cambiare i link a cui si collega l'app per avere dei mockup giusto grazie su Angular specialmente c'è già questa cosa praticamente io quando ho messo prima il comando c'era l'ultimo comando che ho mostrato era meno meno prod perché in realtà su Angular si può avere un file che si chiama environment .ts che dentro ci metti un dictionary normalissimo e c'è environment.ts environment.prod.ts in automatico a seconda della build che fai prende uno dei due quindi puoi avere un orale diverso per la produzione e per lo sviluppo che c'è che c'è che c'è che c'è